Ue ragazzi un misoglio da Milo ma prima di iniziare come sempre sigla Ben ritrovati ragazzi nella multicraft Se avete mancato la live dello scorso venerdì tranquilli potete guardarla Basta cliccare in alto a destra sul punto esclamativo Che apparirà tra poco Ok cosa è successo in quella live abbiamo trovato il cartografo abbiamo trovato la mappa Abbiamo fatto diciamo le sue missioni e abbiamo trovato la mappa della mention Abbiamo camminato nella live un po' ma non siamo riusciti a trovarla Però ora ragazzi guardate un po' il puntino si è ingrandito e ci siamo avvicinati Però io ho iniziato qua perché guardate un po' ragazzi laggiù cosa c'è? C'è una fortezza sottomarina ma non ce n'è una Ce n'è un'altra di là l'ho vista quindi abbiamo due forte sottomarine vicine C'è pazzesco ma è successa questa cosa Ho fatto anche questo dove sono ecco qua Ho preso degli stiboletti di ferro perché hanno ripristino Terragio moro, passeggiato, protezione C'erciano di tutto quindi anche ripristino Oltre a quelli che avevo di c'è Quelli altri l'ho dati a Ila e quindi intanto mi tengo questi Volevo fare un attimo il Lo screen di questo Ho preso infatti due mappe vuote da casa Abbiamo camminato un po' abbiamo camminato però ora vi faccio vedere dov'è la mansion così anche se gli altri vogliono trovarla Vediamo un po', ta, la vedono Ok è quella cosa lì, perfetto Siamo sopra si può tornare indietro Comunque vedete il puntino sulla mappa del mansion si sta muovendo Ora più bisogna andarla a trovare Non so se l'avete notato guardando l'erba ho cambiato la texture Ho messo questa, non so se la conoscete La default 3D classic Era l'unica che appunto mi faceva vedere il puntino nella mappa Non so perché, ecco vedete l'altra Come dicevo non so perché ma la texture che avevo prima Il resource pack non mi dava il puntino Cioè era un po' buggato quindi ho detto leviamo E mettiamo questa Vediamo un po' se continuando ci si arriva Comunque in questo viaggio che ho fatto ho incontrato ben 5 Ho incontrato sempre quelle due di prima Fortezze oceaniche Quindi le fortezze ormai non sono più una cosa che si trova ogni tanto Cioè ne ho trovate 5 ragazzi quindi Non so perché l'hanno implementate così tanto Eccoci Vedete ragazzi? La mappa si sta Ah ma non è uguale sotto Che brutto però Cioè il pipellino vede Vedete così Far virgolette in bianco e nero Però non è nero e marrone Che però almeno si trasformava E fa Vediamo po' se quello Eccolo là Trovata Ehi Che è successo? E monta sopra No vedete Pensavo che fosse il mare Invece non è Il coso tratteggiato A righe sulla mappa Peccato Pensavo fosse il mare Deve stare un po' laggando Forse si sta caricando Comunque ragazzi siamo arrivati al mansion Ed è notte Quindi io Mi sa che Andrei a casa a dormire Tanto e poi torno Così almeno posso le cose Ho trovato anche L'entrata Pazzesco Ok Non c'è nessuno dentro Per ora Per ora non c'è nessuno Vedete se riempiamo tutto Torce Oh Salve No 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 Oh Oh Non era il mob Quello buono Lui Non capisco perché Mi voglia attaccare Però intanto andiamo su Prima volta ragazzi Che vedo La mansion così La magione Oh la magione Che bello Però così Ancora niente Mi attaccano tutti Perché mi attacchi Cosa ti ho fatto Non ho capito Se quello lì Però devo ucciderli O no Vai Attacca lui Attacca Cosa Ma c'è lui C'è Non attacca lo zombie Attacca me Ora via Comunque non ho capito Ok lì ci sono quelli Devo capire Se posso ucciderli O no Ma mi sa Mi sa di no Ragazzi Mi sa proprio di no Qui Tappezziamo di torce Devo capire Cos'è che Cioè ho visto Le ceste giù Che ora sono salite Però giù c'erano Delle ceste Continuano Ad attaccarmi Questo cos'è Ah c'è anche il ring Attenzione Mi segui Ah non può seguirmi Su Però qui su Sono in trappola Bene Ottimo Oh Finalmente Cavolo Se posso trovare Queste cose C'è le zappe Anche di Ora bene C'è Ottimo Grandi creeper Invisibili Dov'era il creeper Via Via ora Via 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 No Aia Gli angioletti Questi no E vabbè Via Di tutto Tutto Di tutto Di tutto Andiamo giù Tanto di là Non c'era niente C'erano i creeper Che esplodevano Vabbè Oh salve E basta Però eh Ma guarda quanto fa Anche un casino fa C'è la serra Bellissimo Cioè questa ragazzi Mi ha dato un'idea Pazzesca Per un'altra cosa Bello Bello Questo mi piace Questo mi piace Però Non mi piace il fatto Di essere attaccato Da dei villici Infami Oh Farm Di Funghe All'avanguardia Questi villici Però devo capire Ancora come usarli Perché la gente Li usa Quindi vuol dire Che ci sarà Un modo No Vabbè Via Grazie Mamma mia Dice sempre Un po' di fortuna Abbastanza Ecco L'ho detto Via Prendi tutte le cose Scappa Via Via Ora non mi attacca No Non ho capito Non ho davvero capito Quindi vuol dire Che ho fatto qualcosa Per non farmi attaccare Ma cosa Ah Con l'arma in mano Se ho l'arma in mano Sono pericoloso E non gli piace Vieni Rincorrimi Però devo capire Cosa serve Avere la Mansion Cioè Non capisco Cos'è che ci devo trovare Morto Andiamoci con la carne Per dire Ho da mangiare Venite Ho da mangiare E guarda 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 Vedi la carne ma mi attacca io spero attacchi lui no attacca a me oh signore ma sei stupido forse sono arrivati perché l'ho distrutto a casa col crib a te ti esplode ma naggia a te ma no ma non ho fatto niente e da si va su qui andiamo su andiamo su oh un pollo perché un pollo perché c'era un pollo lì ok ci siamo l'ho seminati siamo ritornati dove c'è il pollo laggiù che non capisco ancora il perché di quel pollo che cosa c'è? c'è la sauna no via c'è anche la sauna cioè poi sono anche arrabbiati ma se vi arrabbiate c'avete anche la sauna andiamo su una mela d'oro che fa sempre bene andiamo un po' con razza ok va bene ci sono queste sceste ma queste qui si possono trovare credo ovunque vabbè c'è è come se ritrovassi un dungeon boh però c'è qualcos'altro c'è qualcos'altro vedi si continua a salire prima c'è qualcos'altro qua ah ci sono due polli non sono simpatici questi billi oh vediamo un po' biblioteca biblioteca c'è qualcosa c'è qualcosa qui eh di sicuro anche se tutti questi libri mi servirebbero dovevo prenderli però no faccio il bravo non li tocco ecco siamo stati buoni ok niente io direi di tornare a casa perché abbiamo visitato tutto tutta la maggiore almeno spero perché tanto se no ci ritorniamo anche se è un viaggio abbastanza lungo tranquilli no proprio lo rifaccio con piacere e niente qui prendo anzi ne approfitto di prendere aiuto e basta però eh ora basta e ora basta si finisce così si finisce cos'è cos'è che danno danno smeraldi non è che li uccido tutti però basta ci sono se servono li prendo eh intanto non chiedo se servire hanno a me di sicuro agli altri perché io le farmi non le so fare tanto bene quindi non le usirò mai quindi spero il video vi sia piaciuto ringrazio per la visione e ci vediamo in un prossimo video da Mino è tutto lì nello studio ciao ragazzi ciao